L'associazione escursionistica Gentina Spromonte con il patrocinio del Comune di Grotteria ha organizzato la Montagna Ferita, un programma di escursioni per l'anno 2022. Di fatto è un vero e proprio omaggio a chi abita e ama la Spromonte, uno scenario dello stesso colore. Domenica una giornata escursionistica dedicata al territorio di Grotteria. Alle 10 c'è stato il ritrovo dei partecipanti in Piazza Nicola Palermo a Grotteria Superiore alla presenza del sindaco Vincenzo Attilio Loiero. Un'iniziativa per ricordare quegli eventi che si sono verificati in estate dove il nostro paese è stato fortemente colpito dagli incendi e da una vittima che c'è stata sul nostro territorio e oggi è il riscatto, il rilancio per poter riscattare questo territorio e pensare che si possa veramente tornare al verde che c'era una volta. La mano dell'uomo è stata pesante sul territorio perché si è trattato allora di incendi dolosi e ancora non si è accertato il motivo di questa brutalità perché noi abbiamo un grosso problema. Oltre agli incendi adesso abbiamo il problema del dissesto idrogeologico, ci troviamo in un territorio dove è a forte rischio idrogeologico e qua in questo punto abbiamo fatto un consolidamento terminato da qualche anno per la messa in sicurezza. Bisogna fare tantissime altre opere di messa in sicurezza però la natura dobbiamo dire agli uomini che la natura è importantissima perché se si distrugge la natura si distrugge il territorio. Con Gente in Aspromonte avevamo pensato a questa iniziativa da diverso tempo, poi è stata rimandata per causa Covid, adesso oggi la facciamo anche malgrado malgrado il maltempo saranno messi a dimora degli alberi proprio in segno di rinascita e quindi qua dove stiamo realizzando anche un parco giochi che ancora deve essere completato e oltre a questa bella giornata ci sarà una visita escursionistica per visitare il nostro borgo, il nostro centro storico che è uno dei più antichi, dei più belli della Calabria dove ci insistono parecchi portali, parecchi palazzi storici, tantissime chiese e quindi sarà una bella giornata a tempo permettendo. Ringrazio ancora Gente in Aspromonte e il nostro augurio è che possiamo veramente dedicare, si parlava poc'anzi con il Presidente dell'Associazione Gente in Aspromonte per dedicare proprio una giornata in estate, il giorno diciamo che si è verificato l'episodio anche la morte del nostro concittadino Zavaglia, una giornata dedicata proprio a quegli episodi e faremo anche una richiesta alla città metropolitana per un contributo, un piccolo contributo da poter realizzare un sentiero che sarà dedicato proprio al nostro concittadino. Quindi speriamo che tutti rispettano la montagna e amano la montagna. Un evento che ha visto la messa in dimora di alcune piante di ulivi e poi successivamente tutto il gruppo è partito per un trekking urbano nel meraviglioso borgo di Grotteria Centro. E' intervenuto Giuseppe Carbone, dirigente dell'Associazione Escursionistica Gente in Aspromonte. Noi abbiamo voluto ricordare qui a Grotteria, in un borgo tipico della Ionica, quello che è successo il 19 e il 20 agosto dell'anno 2021. Un devastante incendio, sicuramente di natura dolosa, ha raggiunto all'ambito le abitazioni del paese e ha distrutto ettere e ettere di vegetazione nella montagna a monte del paese. Quello che è successo è, vogliamo che non si ripeta più né a Grotteria né in Italia né in nessun altro paese del mondo. Noi come associazione escursionistica gente in Aspromonte abbiamo voluto dare oggi simbolicamente un segnale di sensibilità a questo problema e al problema del mantenimento dell'ambiente e della valorizzazione di ciò che ci circonda, perché riteniamo che la simbiose tra uomo e natura sia l'aspetto più importante della vita umana. Abbiamo scelto l'ulivo come pianta simbolicamente, uno perché è la pianta della pace e il secondo motivo perché gli ulivi sono state le piante più devastate durante gli incendi giorni dell'agosto 2021. Noi riteniamo di portare avanti questo problema che è il problema della preservazione dell'ambiente, della tutela dell'ambiente. Non a caso abbiamo intitolato quest'anno il nostro programma, la montagna ferita, un omaggio a chi ama e abita l'aspromonte. Intendiamo portarlo avanti, abbiamo oltre questa zona, avremo occasione di vedere altre zone devastate, ricordiamo le colonne del cielo del Serro di Acatti, ricordiamo la zona di Roccaforte del Greco e poi il Scenero Spettrale anche a Rogudi. Abbiamo anche altre attività ormai che sono consolidate, che sono tipiche attività che l'associazione svolge ogni anno. Abbiamo anche la giornata dell'amicizia, la giornata del sentiero e altre giornate con cui portiamo avanti circa 30 appuntamenti quest'anno come negli anni precedenti. L'evento Gente in Aspromonte è proseguito poi con un'escursione ad anello nella contrada Santa Femia di Grotteria. Insomma una straordinaria occasione per vivere la montagna e per mettere in evidenza la vocazione escursionistica dell'Aspromonte.